Prima di iniziare a guardare questo video, ascolta a me, clicca su iscriviti, attiva la campanellina per attivare le notifiche e lascia un mi piace. Buona visione! Ok, adesso ci siamo ragazzi, scusate ma le donne tra truccarsi e cose varie mi fanno fare sempre ritardo. Il piatto più buono del mondo? Il piatto più buono? No, ho dato, ho dato, oh no che cosa! Devi correre adesso! Sì, stai con me! Ho dato, ho dato, oh no che cosa! Ehi, che è? Cos'era quel rumore? Oh forca puttana! Oddio via via! Se ne va! Oh forca puttana! Oddio! Sembra uno che sta facendo cos'è sconce nella sua cameretta, non è per dire. E qua? Porca puttana! Ma che cazzo era? Dio buono! Porca puttana! E anche i vostri devono pisciare ogni tanto a raga. C'è Jane in un cesso? Così? Porca puttana! Ma stai scherzo! Porca puttana! La porta! Porca puttana! E' fatto a cagare di nuovo porca puttana! Cioè oltre noi, però anche tu cazzo! Porca puttana! Buon November! Buon Chance! Buon November! Buon fin. Grazie a tutti.